Il pubblico ha deciso. Mi chiamo Mauro Manin. Che è il vincitore della decima edizione del Grande Fratello. Sono un ragazzo di Castelfranco Veneto. La mia vita prima del Grande Fratello era questa, produrre salumi di qualità. Ho deciso di rimanere qui a casa con la mia famiglia perché senza di me la mia famiglia non andrebbe avanti. Salumi buoni e vingiandi. Il vincitore è... Mi è capitato di diventare famoso. È Mauro! Ho vissuto per un periodo in un mondo bellissimo. È un mito, Mauro! Ma altrettanto falso. L'ho sempre seguita. La mia vita ho sofferto tantissimo. Non è stata la vittoria del Grande Fratello ma la mia vittoria personale. Ragazzi, io giravo per il mio paese e mi dicevo quello è il matto di Castelfranco. Forse anche per questo. Adesso? È sempre matto sono però... Ce l'ho fatta. Ho vinto. Dottore, questa è la mia storia. Mauro, complimenti! Mauro, complimenti! Mauro, complimenti! Grazie!